Qualche giorno fa Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, ha annunciato via social il rientro in classe dal 7 gennaio delle superiori dopo la sigla dell'accordo tra governo e denti locali. Felice per l'intesa siglata con regioni, province e comuni, studentesse e studenti delle scuole secondarie finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo avevano chiesto, è giusto che possano farlo grazie all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte, ha detto il ministro Azzolina. In occasione del Vaccendei all'ospedale Cotugno di Napoli, intanto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito che qualsiasi ipotesi di riapertura sarà valutata in base ai dati epidemiologici di inizio 2021. Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, questa è una delle cose che mi fanno impazzire in questo paese, fissare le date a prescindere, sottolinea il governatore. Ma come si fa a dire apriamo il 7 senza aver verificato il 3, il 4, il 5, qual è la situazione epidemiologica? Allora diciamo ai nostri concittadini, tendenzialmente, ipoteticamente, si può valutare. Credo che in campagna non apriremo tutto il 7, anzi sicuramente non apriremo tutto il 7. Valuteremo con grandissima attenzione, ha aggiunto, e in ogni caso l'idea di mandare a scuola il 50% è un'idea che la campagna non condivide. Cominceremo a valutare un passo alla volta anche il rientro a scuola delle ragazze e dei ragazzi, ma sicuramente non in blocco al 50%. Abbiamo fatto uno sforzo con il trasporto, sapete che abbiamo quasi raddoppiato il numero di autobus disponibili, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Nelle ultime ore Lucia Fortini, assessore all'istruzione della regione Campania, traccia a Lanza il piano per il rientro a scuola a inizio 2021. Esso prevede piccoli passi scaglionati che saranno analizzati dall'unità di crisi regionale prima di essere attuati. Il 7 gennaio, afferma, riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale. È un percorso condiviso, spiega Fortini, anche con le parti sociali e infatti mercoledì ho una riunione con i sindacati per fare il punto prima della riunione con l'unità di crisi nei primi giorni dell'anno nuovo. Porterò un mio percorso che prevede dall'11 gennaio la riapertura di tutte le classi della scuola primaria, poi da lunedì successivo, il 18 gennaio, tutte e tre le classi della secondaria di primo grado e da lunedì 25 la secondaria di secondo grado. Occorrerà dunque aspettare per capire se effettivamente gli studenti campani, la maggior parte dei quali da metà ottobre studiano in DAD, potranno lasciare pc e tablet e tornare alla didattica in presenza.